Lei parla sempre di sviluppo, crescita, domani, futuro, però pone sempre un tema importante in questa crescita, c'è una crescita sostenibile, una crescita graduale, una crescita che abbia basi solide. Io Claudio siamo buon testimoni di aver visto in Italia tante bolle di società che poi improvvisamente esplodevano. Sarebbe stato facilissimo per me di dire vengo qui, metto, mi stanco e me ne vado. Però il fatto, prima di tutto, l'ho detto all'inizio, ho detto per me, lavorando insieme, rispettando la gente, ho sempre detto che devo essere trasparente come faccio delle cose e non fare le promesse sapendo che le promesse se ne le puoi tenere non valgono niente. Allora, nel sport o anche negli affari, per avere qualcosa che sarà lì per lungo tempo, la base deve essere solida. Abbiamo una visione di dove vogliamo essere, però sapendo che questo bisogno qui prenderà tempo per costruire. Allora, per quello dico che prenda tempo e spero che la gente ci danno il tempo per lavorare, per arrivare dove vogliamo arrivare. A che punto è il progetto stadio e quanto ancora vale l'idea di provare ad averlo qui dove siamo seduti in questo momento? È ovvio che l'istoria di Bologna è qui, nel stadio Dallara. La nostra filosofia è sempre quella, è sempre quella di lavorare per fare il restyling Dallara. Però più di quello, anche a livello di restyling, deve essere una decisione del business. Dobbiamo fare attenzione, se dobbiamo spendere, dobbiamo assicurare che spendiamo, non solo per spendere, però spendiamo che ci può riportare qualcosa a Bologna. Una delle cose che volevo riportare a Bologna è la credibilità, la serietà che diamo al resto della Lega, la credibilità. Credo che adesso è più facile di portare i giocatori importanti qui a Bologna perché c'è un certo credibilità che abbiamo creato. Ci crede a un Bologna in Europa nel giro di qualche anno e questo è l'obiettivo. L'ho detto dall'inizio che per me voglio eventualmente portare la squadra a un certo livello. è ovvio, i livelli di tipo Europa. Però, come ho sempre detto, prenderà il tempo che prenderà, però vi posso garantire che stiamo lavorando in quella direzione lì. E quella è la sola promessa che posso fare ai nostri tifosi e alla città che stiamo lavorando. E quello è l'obiettivo, però il fatto che stiamo lavorando in quella direzione lì, credo che insieme, perché lo dico sempre insieme, perché l'ho detto una volta, sì, è vero che sono il proprietario di Bologna, però non lo posso fare solo. Ho bisogno di voi, ho bisogno della città, che lavoriamo insieme per arrivare al punto dove vogliamo arrivare. e credo che nel futuro possiamo dire sì, ci siamo arrivati.